Adesso vi faccio vedere una delle euforbie più belle e più comuni che è possibile incontrare nei prati. È l'euforbia calenzuola, chiamata anche erba verdona. Euforbia elioscopia, da elios, sole e scopein, guardare, osservare, pensate ad esempio alla parola microscopio, telescopio, hanno tutti dentro la parola scopein, la radice scopein. Eccola qua. Allora, da cosa si caratterizza? Si caratterizza dall'avere un fusto che è liscio, lucido e spesso arriva fino ai 30 centimetri. Ha le foglie sul fusto che sono disposte in maniera opposta, quindi una di qua, una di là, e sono obovate. Cosa vuol dire obovate? Che hanno la parte superiore che è più larga rispetto a quella inferiore. Hanno un po' la forma a uovo. E guardate, sono finemente dentate. Vedete? Questa invece è la tipica infiorescenza dell'euforbia, che si chiama ciazio, che vuol dire coppa di spumante. Eccola qua. Ed è un'infiorescenza a cinque raggi. Guardate che bella. Allora, l'euforbia, le euforbie, e in generale le euforbiacee, sono piante che producono lattice. Eccolo qua. E il lattice, prendo una parte che ho spezzato per farvi vedere il lattice. Ecco qua. Guardate, questa è un'euforbia che ho spezzato e produce lattice biancastro. Vedete? Il lattice è la parte tossica dell'euforbia. Eccola qua. Il lattice, dicevo, è la parte tossica dell'euforbia. Pensate all'euforbia più famosa che è la stella di Natale. Il lattice, ecco, può essere molto tossico, sia per gli esseri umani che per gli animali. Perché è una sostanza, questo lattice, fortemente irritante. Contiene infatti diverse quantità di forbolo e di idrocarburi. E quindi può produrre fino a ustioni chimiche. Veniva utilizzato una volta per curare dai morsi di serpenti, per il mal di denti e in generale per curare patologie cutanee come le verrucche e i porri o la keratosi senile. Ecco, io non so con che esiti si curassero il mal di denti o gli avvelenamenti. Veniva anche utilizzato, adesso mi viene in mente, per curare la stitichezza. Però, ecco, secondo me gli effetti erano veramente nefasti. L'unico uso che si può ancora fare è quello del lattice per estirpare, per distruggere le verrucche. Perché il lattice, contenendo sia forbolo che idrocarburi, ha un effetto sia distruttivo sulle cellule keratiniche che antivirale. E di solito le verrucche sono provocate da virus. Quindi, ecco, l'unico eventualmente utilizzo che si può fare, si può fare un utilizzo simile a quello che si fa con il lattice della clidonia, applicandolo per una ventina di giorni sulla verrucca da curare. Ecco qua. Attenzione perché il lattice, se viene a contatto con gli occhi, può dare cecità temporanea o permanente. Quindi state molto ben attenti. Eccola qua, l'euforbia. Pianta veramente, secondo me, bellissima.